Ho 20 anni, sono raffreddata ed ho un ronzio nell'orecchio destro. Qui chiaramente potrebbe essere un problema di catarro all'interno dell'orecchio. Gli spray nasali che decongestionano il naso insieme a un mucolitico che favorisce il fruire del catarro. L'onzio va assolutamente trattato in qualche modo perché bisogna che diminuisca perché poi si potrebbe trasformare in acufene e diventare un problema. Quindi se uno ha un problema di naso tappato, prima si cerca di risolvere il problema della rinite in modo tale che se la ventilazione migliora, probabilmente migliora anche l'onzio e il problema è risolto. Se invece permane anche dopo, allora in quel caso c'è il sito dell'intervento. Per aiutare insieme per vivere è fondamentale dare una mano e c'è uno strumento importantissimo 5x1000.